Un grande paese con abbondanti ricchezze naturali, 68 diversi popoli indigeni ed al volto giovane. E' questo il Messico che lo scorso 12 febbraio ha colto Papa Francesco con un entusiasmo e una semplicità vibranti. Il primo discorso ufficiale il Pontefice lo ha rivolto alle autorità, alla società civile, al corpo diplomatico, subito dopo essere stato ricevuto dal Presidente per la prima volta nella storia al Palacio Nacional. A tutti ha chiesto di contrastare la cultura dello scarto perché ogni volta che cerchiamo la via del privilegio o dei benefici per pochi, presto o tardi la vita sociale si trasforma in un terreno fertile per la corruzione e il narcotraffico. Questa terribile piaga è emersa anche tra i pensieri che Papa Bergoglio ha rivolto ai Vescovi nella Cattedrale dell'Assunzione. Le proporzioni del fenomeno, la complessità delle sue cause, l'immensità della sua estensione come metastasi che divora, non permettono a noi, pastori della Chiesa, di rifugiarci in condanne generiche. In un discorso denso e puntuale il Pontefice ha evidenziato diverse tematiche, dai migranti che corrono ogni rischio in cerca di una vita migliore, all'attenzione dei popoli indigeni, alla missione della Chiesa e dei Vescovi, chiamati a non perdere tempo ed energie nelle chiacchiere e negli intrighi, ma ad avere lo stesso sguardo della Madonna di Guadalupe che ci insegna che l'unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio. Dinanzi agli occhi dell'amore nita, sempre sabato, il Pontefice si è lungamente raccolto in preghiera nel Camerina della Basilica, ai piedi della Vergine che nel dicembre del 1531 risvegliò la speranza dell'Indio Juan Diego e del suo popolo, Papa Bergoglio ha posto gli affanni e i dolori delle madri e dei padri che si sono visti strappare i figli dalla criminalità degli spollati e degli emarginati. Tutti siamo necessari, soprattutto quelli che normalmente non contano perché non sono all'altezza delle circostanze o non apportano il capitale necessario per la costruzione delle stesse. Il santuario di Dio è la vita dei suoi figli. Nella prima domenica di Quaresima, Papa Francesco ha celebrato la messa presso il Centro di Studi Superiori di Ecatepec e ha chiesto di sfruttare questi 40 giorni che precedono la Pasqua per rifiutare le tentazioni della ricchezza, della vanità e dell'orgoglio. Con il demonio non si dialoga, ha precisato, noi abbiamo un padre che sa di famiglia, di pane spezzato e condiviso. Prima della recita dell'Angelus ha chiesto poi di lavorare affinché in Messico ogni periferia sia raggiunta dalla luce del Vangelo. Dove non ci sia bisogno di emigrare per sognare. Dove non ci sia bisogno di essere sfruttato per lavorare. Dove non ci sia bisogno di fare della disperazione e della povertà di molti l'opportunismo di pochi. Una terra che non debba piangere uomini e donne, giovani e bambini che finiscono distrutti nelle mani dei trafficanti della morte. I piccoli ospiti dell'ospedale pediatrico Federico Gomez hanno accolto il Pontefice in un clima di festa, tra doni, fotografie e cori. A tutti i presenti, compresi medici, infermieri e volontari, dopo aver salutato singolarmente i bambini, il Pontefice ha ricordato che è soprattutto l'affettoterapia ad aiutare a vivere il tempo della prova con più gioia. Lunedì il bariopinto Ciapas ha accolto il successore di Pietro per la messa con le comunità indigene a San Cristobal de la Scasas, dopo aver autorizzato l'uso delle lingue locali nella liturgia. Papa Bergoglio ha reso omaggio a questi popoli, riconoscendo con grande rammarico che molte volte, in modo sistematico e strutturale, sono stati incompresi ed esclusi dalla società, oltre a essere spogliati delle proprie terre. Che tristezza! Quanto farebbe bene a tutti noi fare un esame di coscienza e imparare a chiedere perdono. Perdono, hermanos. Il mondo di oggi, spogliato dalla cultura dello scarto, ha bisogno di voi. Nello stadio di Tuxla Gutierrez, Papa Francesco ha nuovamente condannato la colonizzazione ideologica che attacca la famiglia. Oggi questa cellula della società, detto dopo le testimonianze, è indebolita e messa in discussione su diversi fronti, considerata quasi un modello superato, ma resta fondamentale. Preferisco una famiglia che ogni giorno cerca di coniugare l'amore addetto a una società malata per la chiusura e la paura di amare. Non esistono famiglie perfette, l'amore non è facile, ha proseguito il pontefice, ma l'importante è coltivare la pazienza e la capacità di sapersi perdonare, facendo la pace tutte le sere. La vita matrimoniale si deve rinnovare tutti i giorni, ha concluso, perché le ferite, le cicatrici e le rughe sono il segno di una vita trascorsa insieme. La vita matrimoniale si deve rinnovare tutti i giorni, ha concluso,